Con questo tutorial vediamo degli esercizi sui polinomi che contengono le differenze di quadrati. Allora, partiamo da questo primo esempio. Allora, qui la prima cosa che vado a fare è questa moltiplicazione, cioè vado a considerare questa differenza di quadrati, quindi vado a fare 2x per 2x, poi meno y per y e questa quantità la ricopio così com'è. Ed ottengo 4x alla seconda meno y alla seconda e poi questa parte la vado a ricopiare qui. E quindi scrivo 4x2 più y2 per 16x alla quarta più y alla quarta. Ora osservo che ho di nuovo una differenza di quadrati perché ho 4x alla seconda meno y alla seconda che moltiplica 4x alla seconda più y alla seconda e quindi vado a moltiplicare questo per questo, poi meno questo per questo e questo fattore lo vado a ricopiare. ed ottengo 16x alla quarta meno y alla quarta che moltiplica 16x alla quarta più y alla quarta. Ho di nuovo una differenza di quadrati, allora vado a moltiplicare questa quantità per questa quantità e questo per questo ed ottengo 16 per 16, 256x all'ottava meno y all'ottava. Vediamo quest'altro esempio. Allora, anche questa moltiplicazione risulta una differenza di quadrati perché ho queste quantità che sono uguali, che sono meno b e quindi è un po' come se fosse a, mentre queste quantità sono una positiva e l'altra negativa e quindi potrei andare a scrivere b più a che moltiplica meno b più a e quindi vado a fare a alla seconda meno b alla seconda e quindi vado a scrivere meno b per meno b che fa b alla seconda meno un mezzo a per un mezzo a fa un quarto a alla seconda, tutto quanto che moltiplica b alla seconda più un quarto a alla seconda. Anche in questo caso ho una differenza di quadrati, quindi vado a moltiplicare questo per questo e questo per questo ed ottengo b alla quarta meno un sedicesimo a alla quarta. Vediamo quest'altro esempio. Qui la cosa che mi conviene fare è raccogliere questo esponente in modo tale da avere x meno 2y per x più 2y tutto quanto alla seconda, che è una differenza di quadrati. Qui invece sviluppo il quadrato di binomio e qui vado a svolgere una differenza di quadrati. Allora vado a scrivere. Apro la quadra, x meno 2y che moltiplica x più 2y tutto quanto alla seconda, quindi ho raccolto l'esponente, meno, qui vado a sviluppare questo quadrato di binomio ed ottengo il quadrato del primo più il quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi 8x2y2, poi più, qui vado a sviluppare questa differenza di quadrati e quindi vado a scrivere 16x alla seconda, y alla seconda, meno 1. Ora, qui faccio i calcoli utilizzando sempre la differenza di quadrati ed ottengo x alla seconda meno 4y alla seconda, tutto quanto alla seconda, quindi elevato alla seconda. Qui inizio a cambiare disegno ed ottengo meno x alla quarta, meno 16y alla quarta, meno 8x2y2 più 16x2y2 meno 1. Ora non mi resta che sviluppare questo quadrato di binomio e vado a scrivere, quindi quadrato del primo più quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi meno 8x2y2 meno x alla quarta, meno 16y alla quarta, meno 8x2y2 più 16x2y2 meno 1. Adesso devo semplificare. Allora, posso andare a togliere questo x alla quarta con meno x alla quarta, poi ho meno 8x2y2, meno 8x2y2, poi ho un più 16x2y2 e quindi vado a semplificare tutto, quindi questo, questo e questo. Poi ho un 16y alla quarta e meno 16y alla quarta e quindi vado a semplificare e quello che mi resta è meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora, osservo subito che questo prodotto è una differenza di quadrati perché ho questa quantità che resta uguale in segno, mentre questa quantità cambia di segno. E allora è come se fosse questo a, cioè la quantità che non cambia di segno, e questa è la quantità che cambia di segno, che chiamo b. Quindi è b più a e poi meno b più a. E quindi è come se fosse a meno b per a più b. Anche questo prodotto è una differenza di quadrati perché ho questa quantità che resta uguale in segno e quindi la vado a chiamare a. Mentre quest'altra quantità cambia di segno, quindi la prima la posso chiamare meno b più a, la seconda b più a, e anche in questo caso avrei a alla seconda meno b alla seconda. E questo è un quadrato di binomio che devo solo sviluppare. Allora inizio e vado a scrivere 4b alla seconda più a quadro, quindi b per b. E allora vado a scrivere b alla seconda meno questo per questo, meno 4a alla seconda più 2a protonda. Vado a sviluppare questo prodotto notevole. Allora vado a fare questo per questo, che è 9b quadro, meno questo per questo, quindi meno a quadro. E poi sviluppo il quadrato di binomio, quindi il quadrato del primo più il quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi 4ab. Allora la prima parte, questa, la vado a ricopiare così com'è ed ottengo 4b quadro più b quadro meno 4a quadro e qui moltiplico per 2, quindi più 18b quadro meno 2a quadro più a2 più 4b2 meno 4ab. Ora vedo quante b quadro ho, quindi c'è una, due, tre e quattro e quindi vado a fare 4 più 1 più 18 più 4 ed ottengo 27b quadro. Poi vediamole a quadro. Allora ho meno 4a quadro meno 2a quadro più a quadro e quindi ho meno 5a quadro e poi quello che mi resta è questo meno 4ab che lo vado a ricopiare. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui la prima cosa che vado a fare è moltiplicare questi due fattori perché è una differenza di quadrati e anche questa risulta una differenza di quadrati perché ho questa quantità che resta uguale, quindi sarà a. Mentre qui ho una quantità che qui è positiva e qui è negativa e quindi è b. e vado a scrivere b più a meno b più a e qui ho un quadrato di binomio che lo vado a sviluppare all'interno delle parentesi perché c'è un segno meno. Allora inizio. Apro la quadra e vado a fare x più 1 per x meno 1 ed ottengo x alla seconda meno 1 che moltiplica x alla seconda più 1 tutto quanto alla seconda. poi più, vado a sviluppare questa differenza di quadrati quindi devo fare a quadro meno b quadro ossia questo per questo e quindi ottengo 4x alla quarta meno 1 poi meno, apro la tonda e sviluppo questo quadrato di binomio. Allora vado a fare il quadrato del primo x all'ottava più il quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo che ottengo più 2x alla quarta. Ora rinizio e osservo che questo prodotto è una differenza di quadrati e allora vado a scrivere x alla quarta meno 1 tutto quanto alla seconda più 4x alla quarta meno 1 qui vado a cambiare disegno a tutto ed ottengo meno x all'ottava meno 1 meno 2x alla quarta. Ora vado a sviluppare questo quadrato di binomio ed ottengo quadrato del primo più quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo. Il resto lo vado a ricopiare quindi più 4x alla quarta meno 1 meno x all'ottava meno 1 meno 2x alla quarta. Ora osservo che posso semplificare x all'ottava con meno x all'ottava poi posso semplificare meno 2x alla quarta meno 2x alla quarta con 4x alla quarta poi semplifico 1 con meno 1 e quello che mi resta è meno 1. Vediamo quest'altro esempio osservo che questo prodotto è una differenza di quadrati perché ho una quantità 1 che mi resta uguale mentre 2b meno c questa che mi cambia disegno e quindi è come se fosse 1 il mio a mentre 2b meno c il mio b quindi qua vado a scrivere più b mentre questa quantità sarebbe meno b poi anche questa quantità è una differenza di quadrati e qui invece devo fare soltanto una moltiplicazione allora inizio e vado a scrivere apro la quadra allora a più b per a meno b diventa a quadro meno b quadro ossia 1 per 1 e quindi scrivo 1 meno b quadro il mio b quadro sarebbe 2b meno c tutto quanto al quadrato poi meno ed apro la tonda e sviluppo quest'altra differenza di quadrati ed ottengo 1 meno 4b alla seconda chiudo la quadra alla seconda diviso meno c2 qui vado a fare questa moltiplicazione ed ottengo meno 8bc più 16b alla seconda ora all'interno delle quadre vado a sviluppare questo quadrato di binomio e qui cambio di segno ed ottengo 1 meno quadrato del primo più quadrato del secondo e poi il doppio prodotto del primo per il secondo e chiudo la tonda poi meno 1 più 4b alla seconda tutto quanto alla seconda diviso meno c2 e il resto lo ricopio ora sempre all'interno delle quadre vado a cambiare di segno qui alle tonde ed ottengo apro la quadra 1 meno 4b quadro meno c2 più 4bc meno 1 più 4b quadro tutto quanto alla seconda diviso meno c2 e il resto lo ricopio qui osservo che posso semplificare 1 con meno 1 e allora questo va via con questo e poi posso semplificare meno 4b quadro con 4b quadro allora quello che mi resta è meno c2 più 4bc ora devo elevare questa quantità al quadrato e poi dividerla per c2 allora vado a elevare al quadrato ed ottengo meno c2 al quadrato fa c alla quarta poi il quadrato del secondo cioè questa quantità e quindi vado a scrivere più 16b2 c2 e poi vado a fare il doppio prodotto del primo per il secondo qui ho meno qui ho più e quindi vado a scrivere meno 8bc alla terza diviso meno c2 e il resto lo ricopio ora devo fare questa divisione per meno c2 allora c alla quarta diviso meno c2 ottengo meno c alla seconda poi questo diviso questo mi fa meno 16b alla seconda ed infine più 8bc il resto questo lo vado a ricopiare e quindi scrivo meno 8bc più 16b quadro ora non mi resta che semplificare e vado a togliere questa quantità con questa quantità e poi questo con questo e allora quello che mi resta è meno c2 vediamo questo altro esempio allora qui devo fare una moltiplicazione questa è una differenza di quadrati che lascio all'interno delle tonde perché ho un segno meno qui è una differenza di quadrati che lascio nelle tonde perché poi la devo moltiplicare per 2 allora inizio e vado a scrivere 2x alla quarta meno 2x alla seconda meno apro tonda 4x alla quarta meno 1 più 2 che moltiplica x alla quarta meno x quadro questa quantità la vado a ricopiare così com'è e quindi scrivo 2x alla quarta meno 2x alla seconda qui cambio segno quindi meno 4x alla quarta più 1 e poi più 2x alla quarta meno 2x alla seconda ora ho 2x alla quarta più 2x alla quarta e meno 4x alla quarta che posso semplificare quindi questo questo e questo e poi quello che mi resta è meno 2x quadro meno 2x quadro è meno 4x quadro più 1 vediamo questo altro esempio osservo che questo prodotto è una differenza di quadrati perché ho queste due quantità che sono uguali e restano identiche in segno e quindi vado a scrivere a e a mentre queste due quantità sono identiche con il segno opposto quindi questa è come se fosse b e quest'altra come se fosse meno b e quindi b più a per a meno b e allora è una differenza di quadrati perché vado a fare a alla seconda meno b alla seconda anche questo prodotto è una differenza di quadrati che lascio all'interno delle tonde perché poi cambio di segno inizio e vado a fare questo per questo ed ottengo b alla seconda poi meno questo per questo quindi vado a scrivere 4a alla seconda meno apro la tonda a alla seconda meno 9 b alla seconda vado a riscrivere b quadro meno 4a quadro e qui cambio di segno quindi meno a quadro più 9b quadro ed ottengo b quadro più 9b quadro 10b quadro poi meno 5a quadro vediamo questo altro esempio allora questo prodotto è una differenza di quadrati che lo lascio tra tonde perché poi lo vado a moltiplicare per x quadro più y quadro qui faccio questo prodotto e qui faccio questo prodotto allora ottengo x alla seconda meno y alla seconda e questa quantità la vado a ricopiare è così com'è quindi per x alla seconda più y alla seconda più qui faccio questa moltiplicazione ed ottengo x2 y2 meno x alla quarta qui faccio questa moltiplicazione ed ottengo meno x2 y2 meno y alla quarta posso subito semplificare questa quantità con questa quantità e poi osservare che questo prodotto non è nient'altro che un'altra differenza di quadrati e allora vado a scrivere x alla quarta meno y alla quarta e il resto lo ricopio meno x alla quarta meno y alla quarta ora posso semplificare questo con questo ed ottenere meno 2 y alla quarta vediamo quest'ultimo esempio osservo che questo prodotto è una differenza di quadrati perché ho un a più b per a meno b qui invece devo sviluppare questo prodotto tra polinomi e qui questo prodotto monomio per polinomio e allora vado a scrivere 4a alla seconda meno 9 b alla seconda e qui mi faccio tutti i calcoli allora ottengo più 3a alla seconda meno ab più 6ab meno 2b alla seconda poi mi faccio quest'altra moltiplicazione ed ottengo meno 5ab meno 5a alla seconda allora vediamo le ab allora qui ho 6ab meno ab meno 5ab posso semplificare tutto quanto quindi questo questo e questo si semplificano poi vediamo le a quadro ho 4a quadro 3a quadro e meno 5a quadro quindi 4 più 3 fa 7 meno 5 2a alla seconda poi vediamo le b quadro allora ho meno 9b quadro meno 2b quadro e quindi meno 11b quadro e con questo esempio termino questo tutorial su espressioni con polinomi contenenti differenze di quadrati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti